Ciao a tutti ragazzi, questo è un grandissimo saluto da Eric e da tutto lo suo team, il campo è la Strong Wars QB Arena, oggi qualcosa di diverso, siamo in un deathmatch ma invece di fare la nostra classica giocata farò un bel montaggio con alcune azioni carine dalla prospettiva di voi, quindi andiamo con l'intro e poi vi lascio al video. I am a genius ugulele Com'è la situazione? Carico! Si, non ti preoccupare No, l'abbiamo svitragliato, il nostro Si, l'ho salutato, non quello ma quello di la destra Quelli non sono nostri Puoi rifare il giro Ok, c'è un'altra retta di peso Vabbè, era solo un po' No? No? No, prego! Inizio No, sì, sembra! No, sì! Rossi, Rossi! Tirlone! Noo! no